Tante persone in una fiera, una fiera tradizionale, però si deve mangiare? Eh certo, qui si può cucinare solo per passione e per amore e la gente ama quello che facciamo noi, altrimenti con questa crisi non so se sarebbe questi prezzi perché questi prezzi sono dati da quella passione per trovare un prodotto genuino storico della Sardegna in quel modo, tranquillo, come se fosse a casa sua c'è la festa, c'è San Marco, c'è la fiera e c'è la possibilità di stare in convivialità con chi non si conosce anche, a questa festa siamo tutti allo stesso livello e questo è un ruolo che si deve fare, lo sai, c'è, c'è un ruolo che si deve fare e questo è un ruolo che si deve fare, lo sai, c'è, 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 c'è...